Mentre Shaila Gatta si gode appieno la sua esperienza al grande fratello, l'ex fidanzato Alessandro Rizzo è intervenuto a seguito di alcune dichiarazioni della ballerina. Shaila ha infatti parlato della sua passata relazione definendola tossica e descrivendo l'ex fidanzato come la persona che, a detta del ragazzo, in realtà non è. Dopo essere già intervenuto una prima volta, Rizzo è tornato nelle ultime ore a parlare nuovamente della questione ai microfoni di Non succederà più su Radio Radio con Giada di Miceli, con nuove dichiarazioni inedite e pesanti accuse nei confronti di Shaila. Ecco le sue parole. Alessandro Rizzo non ci sta, Shaila ha detto delle bugie. Siamo stati fidanzati per cinque anni. Finita per il fatto che l'amore può finire. Era tutto molto tranquillo fino al mese di settembre nel quale sono venuto a conoscenza di alcune cose. I primi mesi era tutto molto tranquillo, lei mi scriveva, io le scrivevo, ci siamo beccati per un aperitivo. Auguri di compleanno, le ho fatto una in bocca al lupo prima che entrasse nella casa, tutto nella norma. Non mi hanno fatto piacere le interviste dove lei collocava la nostra relazione come tossica, piena di manipolazione e chi ne ha più ne metta. Lei parla di violenza psicologica, fisica, manipolazione da parte mia. Cose che non hanno nulla a che vedere con la mia persona, ha raccontato Alessandro Rizzo, ex fidanzato di Shaila Gatta, ai microfoni di Radio Radio. Il ballerino ha poi aggiunto, non so da dove abbia preso queste cose. Premetto che lei nelle interviste non ha mai fatto nome e cognome, ma si riferisce ad un ex fidanzato ballerino con cui è stata cinque anni e mezzo. Punto. Ha detto delle bugie. A me ha fatto molta tristezza perché usare tematiche come la violenza sulle donne, oggi alza molto polverone, quindi per noi che facciamo questo lavoro inventare una cosa così ti dà modo di avere pagine di giornali, copertine che a lei facevano molto comodo. Le ha dette per creare rumors e accaparrarsi articoli e fare ipe, per alzare l'asticella dell'ego e soprattutto visibilità. Punto. Non sono una persona violenta, chi mi conosce sa benissimo che non è così. Io le auguro tutto il bene di questo mondo come ho sempre fatto, ma deve imparare a raccontare la verità dei fatti e non costruire delle bugie per darsi una luce diversa da quella che ha. Alessandro Rizzo su Shaila Gatta, mi ha tradito più di una volta. Nel corso dell'intervista, l'ex fidanzato di Shaila ha rivelato anche di essere stato tradito dalla ballerina più di una volta. Mi ha tradito. Contatti con altri uomini mentre stava con me e io l'ho scoperto. Litigavamo soprattutto perché io scoprivo delle cose che mi davano fastidio, cose non rispettose mentre stava con me. Il tradimento è anche flirtare con una persona mentre stai con il tuo fidanzato. Sono venuto a saperlo perché l'ambiente chiaramente era quello. È successo più di una volta. Flirtava con ragazzi, uomini un po' più grandi, di varie fasce d'età. All'epoca lei aveva 21 anni, con persone anche di 20 anni più grandi di lei. Perché flirtava con altri? Non lo so, forse c'era qualche mancanza nella nostra relazione, ha raccontato Rizzo. L'ex di Shaila Gatta rivela, sono gay. Ma ancora non è tutto, perché Alessandro Rizzo ha fatto anche una rivelazione inaspettata. Ora attualmente ho un compagno, sono gay. Ci sono stati dei cambiamenti, ma a prescindere la nostra storia sarebbe finita. Non ero bisessuale mentre stavo con lei, ho fatto un cambiamento. Ero innamoratissimo di lei e dopo mi sono innamorato del mio attuale compagno. Shaila lo sa, sono molto libero, non mi nascondo.